Ho appena firmato l'ordinanza numero 58, avente per oggetto misure preventive e cautelari volte al contenimento del contagio Covid-19, sospensione pratiche, residenza e domicilio, con la quale, oltre a ribadire il divieto di ingresso nel comune di Castellabate da altre province campane, così come confermato dall'ordinanza regionale numero 87, ho sospeso ad oras e fino al 14 novembre tutte le pratiche di trasferimento di residenza e domicilio presso il comune di Castellabate. Questa la dichiarazione del sindaco facente funzioni, Luisa Maiuri, che ha fatto anche un appello su questo particolare periodo. La pandemia ha avuto e sta avendo conseguenze devastanti, non solo a livello sanitario ma soprattutto a livello umano e interpersonale. Siamo cambiati in modo inspiegabile. Sembra di essere tornati al 1400, quando si faceva la caccia alle streghe, adesso è caccia all'untore. Ma il principio è lo stesso, con la maggior parte delle donne che venivano ingiustamente condannate centinaia di anni fa, così anche adesso. Chi ha la sfortuna di prendere il coronavirus è innocente, non ha assolutamente nessuna colpa. Il Covid dovrebbe rendere più forte una comunità più unita, pronta a venirsi incontro e invece ci ritroviamo a fare la caccia alle streghe. Allora evitiamo di spargere voci infondate, evitiamo di far circolare notizie inveritiere, evitiamo di additare come colpevoli coloro che, pur non avendo avuto contatti, hanno la sola colpa di essere parenti di un positivo. Evitiamo ingiustificati allarmismi, solo la comprensione, l'unità e il senso di responsabilità di ognuno di noi ci porterà fuori da questo tunnel.